Ciao a tutti ragazzi, qui è sempre il vostro Simplileo26 che vi parla oggi voglio parlare un attimino della partita Tartale Spagna semifinale purtroppo per noi persa di UEFA Nations League ovviamente ma voglio soffermarmi non sulla partita in particolare anche perché poi vedrete stasera probabilmente la live reaction quindi della partita in cui comunque a fine live ho espresso diversi commenti e analisi seppur brevi sulla partita e questa volta invece in questo video voglio soffermarmi appunto sulla questione fischi a Gianluigi Donnarumma siccome comunque ho visto diversi video di youtubers comunque molti dei quali, la gran parte più conosciuti di me e senza fare nomi comunque si sono schierati chi dalla parte comunque facendo un po' i moralisti del fatto che comunque non andava fischiato un giocatore della nazionale in generale che sia Donnarumma oppure un altro perché appunto sta vestendo la media della nazionale e la nazionale va sostenuta la nazionale va sostenuta al di là delle squadre di club quindi bisogna un po' dimenticarsi di quello che poi i giocatori raffigurano nei propri club e appunto sostenere la nazionale perché comunque tra l'altro si giocava anche una semifinale di un torneo che tra l'altro da molto è stato anche attorto secondo me di snobbato perché comunque poi è una nuova competizione che comunque è un trofeo a tutti gli effetti poi in bacheca quindi comunque non va snobbata mentre appunto ci sono altri youtubers un poco più ovviamente anche soprattutto quelli milanisti ma non solo che invece comunque anche quelli non milanisti hanno magari compreso anche appunto di vista dei diffusi milanisti che comunque per la prima volta che hanno potuto avere l'opportunità poi in casa loro a San Siro di vedere Gianluigi Donnarumma appunto non ci sono lasciati sfuggire l'occasione e l'hanno fischiato comunque ovviamente palesando il loro malcontento ma non e ora parlo da milanista bisogna un poco per chi non sa bene le cose bisogna un poco dire perché Donnarumma è tanto criticato e tanto odiato attualmente dalla stragrande maggioranza dei tifosi del milan non perché se n'è andato perché comunque tanti giocatori se ne sono andati al milan anche giocatori importanti Kaká, Shevchenko per nominarne due ma non solo tanti in tempi passati ma perché Donnarumma è così così odiato come pochi nella nostra tifoseria perché Donnarumma non solo se n'è andato a parametro zero quindi ovviamente come saprete non ha sostanzialmente portato nulla a livello di guadagni dal cartellino al milan quindi alla società milan ma non solo anche perché lui ha sempre progressato anche nell'ultimo periodo negli ultimi mesi prima del trasferimento grande amore per il milan che voleva restare per tentare di vincere o comunque di fare una bella champions dell'anno dopo visto che comunque ci eravamo piazzati ben diciamo nell'ultimo anno che comunque al milan ha dato molto, era affezionato al milan bla bla bla, tanto amore, tanta fedeltà giurata al milan ecco perché Donnarumma è infinitamente ad esempio più dato di Cianovro non solo perché comunque Donnarumma era un simbolo del milan è un giocatore che è stato cresciuto dal milan e praticamente lanciato dal milan ovviamente tenendo presente le grandi doti di strabiliante portiere che ha lo stesso Donnarumma senza dimenticarle mai quelle perché poi magari alcuni milanisti cadono anche nell'inganno diciamo nella cosa che ora che se n'è andato magari anche se fa il secondo portiere che non è più bravo, non è più bravo come prima invece no comunque resta comunque due o tre portiere più forti al mondo e quindi questo è un po' il fatto che questa è un po' la motivazione per la quale i tifosi di Milano c'erano a morte sostanzialmente sempre tra virgolette con Donnarumma era comunque tra l'altro un giocatore che ha fatto anche diversi anni a Milano dal 2016 mi sembra quindi comunque era ormai un pilastro si pensava un pilastro fondamentale anche del futuro del milan e invece vabbè poi è andata come è andata poi vabbè ci sono alcuni che poi hanno detto tra l'altro Donnarumma ha anche gravato sulle spese del club perché ha un po' che imposto attraverso il suo procuratore anche l'ingaggio del fratello vabbè queste e queste sono altre storie però in breve questa è qui un po' la faccenda ovviamente in questo video voglio diciamo esporre il mio parere sulla questione dei fischi a Donnarumma per me è stato ieri sera per voi sarà stato l'altro ieri della parte ovviamente Italia-Spagna però rifacendomi comunque ad alcuni video di alcuni youtubers perché ecco c'è uno youtuber che io stimo e apprezzo molto veramente guardo quasi tutti i suoi video perché mi piace proprio come fa le analisi mi intrattiene anche mi piace molto le sue live reaction soprattutto ma non solo guardo anche le sfide che fa appunto sul calcio perché fa diversi video di sfida con un altro ragazzo quindi una sorta di format di giochi sul calcio e sto parlando appunto di Gabomen Gabomen non è stato l'unico ovviamente a fare un video del genere però è quello che con il quale meno mi trovo d'accordo per diverse motivazioni ecco c'è una cosa che proprio non mi è piaciuta che ha detto per più volte all'inizio del video che i fischi praticamente soprattutto dei tifosi del Milan non ci prendiamo in giro arrivati dallo stadio di San Siro Giuseppe Mazza quindi soprattutto dai tifosi del Milan credo abbiano sabotato la partita nel senso che i fischi comunque che hanno gravato per gran parte della partita escludendo magari proprio gli atti finali però per gran parte della partita su Donnarumma ogni volta che tocca la palla nel riscaldamento e non solo hanno gravato e hanno influenzato la partita a tal punto che la partita è stata sabotata diciamo ha usato proprio questo termine qui dai tifosi che hanno fischiato tutti i tifosi presenti sui spalti in un momento che hanno fischiato all'unisono Donnarumma io non mi trovo molto accordo anzi quasi per niente d'accordo perché non mi trovo molto accordo con questo fatto qui innanzitutto sabotare sinceramente è una parola grossa molto grossa quando è che si può parlare di sabotaggio secondo me in ambito sportivo per fare un esempio ad esempio mettiamo a caso c'è una finale importante di un torneo che non so un torneo degli europei di pattinaggio artistico ecco magari l'avversario ci sono due avversari l'avversaria manda una delle tue concorrenti diciamo così e delle tue atleti in finale manda una persona a sabotare ecco magari il pattino della sua avversaria in quel caso è sabotaggio perché perché in quel caso è creato un danno concretamente all'avversario ma un danno proprio concreto sull'attrezzatura che userà e quindi prende lei per forza di cose limitato e gli hai fatto perdere la gara ecco gli hai mandato a puttare la gara oppure ad esempio che ne so una gara di auto per farvi capire uno va nella scuderia e che ne so manomette un motore manomette che ne so un pezzo della macchina in quel caso è sabotaggio perché perché tu praticamente gli hai manomesso uno strumento per lui fondamentale per poter gareggiare e gli hai mandato per forza di cose a puttare la gara in questo caso perché non si può usare la parola sabotaggio perché innanzitutto non c'è un danno concreto tangibile alla partita in generale anche se i tifosi allo Stato avessero avessero fischiato tutti e 11 giocatori della nostra nazionale comunque non ci sarebbe stato un danno tangibile concreto perché non c'è una diretta correlazione tra i fischi e poi l'andamento della partita perché non va concretamente a influenzare a influire sui suoi eventi e su ciò che accade nel campo di gioco a maggior ragione in questo caso che i fischi sono stati interessati soltanto a un giocatore comunque soltanto quando questo giocatore ha toccato la palla anche se comunque più volte nel corso della partita solamente in quel caso si è fischiato quel giocatore ecco soltanto in quel caso sono sentiti fischi fischi per carità comunque assordanti e quindi innanzitutto non c'è secondo me la conseguenza diretta di questa azione concreta e tangibile ma ma interviene anche un'altra cosa che è la variabile diciamo psicologica perché ogni giocatore reagisce diversamente ai fischi c'è chi magari più se ne frega chi se ne importa un po' di meno c'è anche comunque una considerazione da fare perché dipende anche da dove provengono i fischi in quel caso provenivano i fischi da una squadra per cui tu hai giocato cinque anni non magari che ne so un giocatore in una partita Liverpool West Ham il giocatore West Ham viene fischato dai tifosi di Liverpool probabilmente non si ne frega proprio perché è una tifoseria a caso a meno che non abbia mai giocato lì invece Donnarumma ha giocato nel Milan cinque anni quindi è chiaro che questo qui ha un impatto questo diciamo sono vari pesi dei fischi questi fischi qui avevano un peso diverso rispetto a quel caso di Liverpool West Ham proprio un'ipotesi pesa a caso un esempio perché il giocatore era emotivamente coinvolto in quanto aveva giocato e aveva militato in quella squadra per cinque anni quindi comunque per un periodo considerevole e poi vabbè comunque sono state tutte le polemiche e tutto quindi è chiaro che emotivamente è diverso se veniti scato dai tifosi della tua ex squadra per la quale tra l'altro è un pilastro un pezzo fondantale oppure tifosi di una squadra qualunque doveva giocare in trasferta è una cosa completamente diversa prima considerazione però al di là di questo comunque c'è la condizione psicologica che entra in ballo non si può parlare di sabotaggio perché cioè tu non hai concretamente manomesso un'attrezzatura o comunque hai fatto un danno concreto al giocatore che ne so gli manomesso che ne so hai sabotato lo scarpino ma per dirvi una cosa qualunque che ne so hai creato delle bughe nel campo in posti in posti inventando proprio delle cose però per farvi capire cioè non c'è una cosa concreta che tu hai fatto tu hai semplicemente espresso un'opinione diciamo così tra l'altro da persona pagante da spettatore che ha pagato il biglietto hai espresso un'opinione un sentimento un malcontento che comunque forse si poteva evitare perché giocava la nazionale e tutto però secondo me va anche compreso perché comunque non è uno di quei giocatori che se ne è andato come altri normalmente che a Gagashevchenko non sarebbe successo nulla ma è successo tutto questo proprio per la maniera in cui se ne è andato quindi secondo me ecco non sono d'accordo con il video di Gabo ma anche di altri che hanno fatto un po' immoralisti diciamo così perché secondo me va compresa questa situazione qui e poi non c'è nessuna conseguenza diretta tra i fischi e gli eventi che si sono verificati durante la partita perché non c'è una correlazione diretta specifica si è parlato anche del fatto che i giocatori sono professionisti quindi devono sopportare i fischi sì è vero devono effettivamente sopportare i fischi se sono professionisti perché comunque non sono dei bambini sono anche degli uomini maturi non sono dei ragazzini però comunque dipende anche dal carattere perché c'è chi reagisce in un modo e chi in un altro ecco Donnarumma a un certo punto si è anche nervosito e lì quando ha fatto quella vapa era lì comunque hanno fatto bene effettivamente cioè chi dopo ha fischiato secondo me ha sbagliato perché lì rischiava poi di danneggiare la nostra nazionale la squadra e tutto con le prestazioni non andava bene infatti poi hanno fatto applauso e tutto secondo me è stato giusto averlo fischiato o no era giusto fischiarlo o no da milanista allora io ho un mio parere molto semplice secondo me era giusto reagire diciamo in una qualche maniera all'inizio della gara comunque appena entrato nel riscaldamento nel campo oppure i primi paloni che toccavano secondo me era giusto fischiarlo perché anche per non tenersi tutto dentro in qualche modo per sfocarsi neanche per sfocarsi per esprimere un malcontento sì anche per liberarsi in un certo modo da parte dei tifosi milanisti quindi questo è comprensibile però nei momenti in cui comunque anche quando perdevamo 1-2-0 2-1 oppure lui aveva fatto comunque quella papera continuavano i fischi assortanti lì secondo me si è un po' esagerato perché va bene si può accettare magari qualche fischio nel riscaldamento oppure quando lui entra in campo anche a inizio partita quando i primi paloni che tocca si può ancora accettare comunque che si fischi perché comunque ecco ma non faccia passare Donnarumma come un angioletto i tifosi milano come i diavoli cioè non è così la storia però dopo effettivamente si è un po' esagerato lungo andare ancora quando perdiamo 1-0-2-0 invece di pensare a rimontare alla squadra ancora fischiavano Donnarumma invece di incitare tutto o comunque di stare zitti però sinceramente non credo che questi fischi abbiano influenzato la partita o il morale l'umore e la convinzione dei giocatori della nostra nazionale per niente sinceramente proprio sono altri eventi che hanno poi influenzato l'andazzo della partita c'è anche da dire questa cosa c'è chi comunque molti hanno detto giustamente quando giocano la nazionale non dovete fischiare i giocatori perché sono giocatori della nazionale innanzitutto era già capitato da Bonucci come già è stato detto da qualche parte quando ha fatto il passaggio al Milan dalla Juve ovviamente è stato fischiato all'Eventus Stadium dai tifosi i giuventini anche quando giocavano la nazionale e vabbè quindi già c'erano precedenti ma non solo questo molti di voi hanno detto o comunque gente in generale ha detto ma perché non lo fischiavate magari quando giocava Milan contro Paris Saint Germain quando giocava Milan contro appunto la sua squadra o comunque insomma quando si incontravano le squadre di club interessate cioè ragazzi noi mo ci speriamo di no però potremmo anche uscircene dalla Champions quant'è la probabilità che si giocherà Milan Paris Saint Germain quest'anno perché poi passato il santo passata la festa l'anno prossimo non avrà lo stesso effetto se tu lo fischi ora non ha lo stesso effetto l'anno prossimo cioè l'anno prossimo non lo fischeranno così pensa e poi anche se dovesse giocare Milan Paris Saint Germain lui probabilmente farà il panchinaro cioè perché attualmente è il secondo portiere quindi questa qui è stata un'occasione probabilmente per i milanisti che vanno lì a San Siro a guardare la partita da cogliere perché non potevano non cogliere nel senso che nella loro testa non potevano non cogliere perché ora avranno pensato anche quando mi ricapita più che ora incrocio Donnarumma cioè che lo incrocerò un'altra volta a breve ecco questo qui e quindi in quel momento si sono voluti sfogare e liberare anche comunque dagli inganni e comunque dalle bugie dall'ipocrisia comunque di questo ragazzo che negli ultimi mesi ha dimostrato ai tifosi ha mostrato i tifosi alla società anche e in generale a tutto il Milan in generale ringraziandolo ovviamente comunque di tutti tutte le partite le prestazioni offerte alla squadra che sono state fantastiche anche grazie a lui abbiamo raggiunto questi risultati in campionato nello scorso anno ovviamente ovviamente e poi si è detto anche un'ultima cosa che c'è gente che secondo loro è andata apposta lì a fischare Donnarumma e non guardare la partita io sinceramente non credo proprio che uno sia andato lì a fischare Donnarumma e non guardasse la partita chiaramente è interessata prima la partita però vedendo che comunque giocava Donnarumma e si sapeva da giorni prima che giocasse Donnarumma hanno voluto manifestare questo malcontento che io sinceramente non vi asimo ma non dico che a valore che sostengo però sì sono più per sostenere questo malcontento almeno all'inizio nelle fasi iniziate della partita nel riscaldamento tranne poi quando perdevamo che comunque lì non era fuori luogo fischiarlo sinceramente sullo 0-0 magari ci poteva stare però dopo no secondo me però neanche secondo me c'è bisogno di fare questo moralismo su youtube in generale anche sul web addirittura parlare di sabotaggio secondo me è molto 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 esagerato e in generale comunque ragazzi cioè indignatevi magari per i cori razzisti per quelle cose veramente fanno schifo comunque quando lo fiscate sempre anche l'inno spagnolo lì è stata una vergogna perché l'inno nazionale di una nazione anche c'è soprattutto un valore sociale politico sociopolitico comunque spesso hanno cioè gli inni comunque manifestano incarnano un poco l'essenza di una nazione ad esempio anche quando è nata quella nazione quando si è resi indipendente e queste cose qui quindi l'inno nazionale è veramente un valore quasi sacro nel senso cioè non puoi fiscare lì veramente c'è da indignarsi purtroppo i tifosi presenti allo stadio l'hanno fatto questo hanno fiscato l'inno della spagna noi che abbiamo tanto criticato quando fischiavano il nostro indio gli inglesi in finale europei però vabbè quindi lì ovviamente non sono affatto d'accordo anzi è da condannare è da condannare a maggior ragione tutti i cori razzisti anche quelli contro Cullibali recentemente quelli anche contro Vlaovic queste cose qui però i fischi Donnarumma che non siano insulti cioè soltanto fischi Donnarumma che non siano insulti secondo me cioè certo se lo fai ogni se ora ogni partita che si gioca in Italia a San Siro fischiano Donnarumma allora no però la prima volta che comunque Donnarumma si è presentata a San Siro a parte che era prevedibile secondo me è anche giustificabile e comprensibile e non c'è da fare questo moralismo sinceramente mettetevi anche nei vanni dei milanisti ecco questo volevo dire voglio dire un'ultima cosa non è un dissing non è un diciamo è semplicemente esprimere le mie opinioni rifacendomi a ciò che è stato detto e che io trovo non inesatto proprio secondo me sbagliato ecco però è una mia opinione nel senso non è un dissing non ci sono state offese in questo video io poi rispetto comunque Gab ma anche gli altri ho ascoltato i video di Nesky o tanti altri che comunque non la pensano come me e non la pensano come la maggior parte i milanisti però comunque ho rispetto li seguo quotidianamente seguo i loro video mi piacciono li seguo quindi comunque li ammiro comunque come dal punto di vista professionale per quello per i video comunque che che fanno anche interessanti su diversi su più temi calcistici e quindi nulla semplicemente esprimere le mie opinioni avvalorate e rifacendomi rifacendo riferimenti a parole che sono state dette secondo me un po' a vuoto diciamo così magari anche in un momento a caldo ecco io non discuto questo però secondo me è un poco esagerato e fuori luogo detto questo ragazzi spero che vi sia piaciuto il video un like iscrizione e commento se vi è piaciuto condividetelo a tutti quanti gli amici che amano il calcio e seguono la nazionale italiana detto questo ragazzi stasera vedete la live reaction della Spagna quindi non perdetevela che prende c'è tanto da divertirsi anche lì ciao a tutti ad esempio la 26 vi aspetto presto per un nuovo video a presto a presto a presto a presto Grazie.